A TuttoFood siamo in compagnia di David McClellan, rappresentante marketing di Alaska Seafood per il Sud Europa. Un tema fondamentale per Alaska Seafood è quello della sostenibilità. Una delle caratteristiche più importanti del pesce dell'Alaska è il fatto che è selvaggio. Che cosa significa e quali sono le caratteristiche che questo fattore comporta? Sì, è stato un po' di 2-7 anni, e solo eats wilde, caratteristiche, calomari, herringi. Quindi, la struttura del pesce è molto diversa da quella di farmi saloni. Quindi, quando stiamo lavorando con fumatori in Italia, o con chefi in Spagna, è molto importante discutere come lavorare con il pesce di un salone. È abbastanza diverso. Si ha un contenitore di olio, ancora un migliore di omega 3, ha un olio differente. Anche, se il chef è usato a lavorare con farmi saloni, che è molto velocemente oltre, c'è un tendenza di over-cook il salone, per far ridere di un po' di farmi saloni. Ma, con un pesce di un pesce, non bisogna fare questo. Quindi, è una grande parte della comunicazione, soprattutto con professioni chefi, per raccontare come lavorare con un pesce di pesce di un pesce di un pesce di un pesce di salone, e la texture di un certo e naturale. Salmon